buonasera a tutti amici amici mi scuso per il video l'altra volta sfocato che l'ho fatto in ginocchio per chiedere scusa a rade per chiedere scusa a stè per chiedere scusa a tatanusano ma stavolta lo faccio il video in ginocchio per chiedere basta fabbri basta fabbri è uno scandalo una monnezza una monnezza non sa gestire una partita ammunisce a cazzo di cane perché la vergogna di girù non è il gol l'ammunizione perché si è tolto la maglia ma perché è stato munito nella rissa a cazzo di cane perché lui ha munito a cazzo senza criterio in una rissa in una mucchiata letto ammunisco i primi i primi tre a cazzo e c'è capitato girù e lì lo schifo e lì la vergogna basta fabbri per l'amore di dio basta non giochiamo più non giochiamo più se quello arbitra se quello mi arbitra con l'inter mi arbitra con la juve io non scendo in campo se c'è valeri se c'è fabbri io non gioco più io non gioco più me ne resto a casa perché è uno schifo un arbitraggio senza un senso senza una logica a cazzo di cane poi ci lamentiamo che andiamo in europa e vediamo immondizie e vediamo immondizie uno scembio uno scembio un arbitraggio di fabbri è stato uno scandalo una mondizia ha rovinato il gol di girù ancora una volta ma lì purtroppo la regola è quella purtroppo se ti togli la maglia devi essere ammonito ma il problema è perché giù è stato ammonito nel nel nella lista che è scoppiata nel fine nel fine partita e lì bisogna dire anche altra munito tre a cazzo e lì c'è capitato girù e lì lo schifo e lì la vergogna poi cinque minuti per annullare il gol per vedere se il gol di tevernante sarà regolare cercavate un'unghia cercavate una gamba cercavate la punta del la punta di non vado a dire che cosa perché sono mi mi chiudono il canale per 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 annullare il gol cercavate qualcosa non l'avete trovato per far vincere lo squetto al napoli e vabbè che presto vabbè che presto cinque minuti per vedere un fuorigioco che si vedeva occhio nulo vergognatevi e anche il col che è stato annullato a tonali quello i tumori lasciamo perdere cioè lasciamo perdere lasciamo perdere per il resto abbiamo concesso troppe occasioni allo spezia ma ce ne siamo mangiati una caterba ce ne siamo mangiati una caterba diaz ha fatto la solita schifo di partita 40 minuti stavolta un po di più poi come al solito scompare quello 90 minuti allo stesso ritmo non li riesce a fa anche se aveva giocato bene ma ha fatto metà partita poi al solito è scomparsa dal campo originale a parte l'assist per tonali che gli hanno tolto ma al primo tempo si stavano 4 5 a 0 con due pali un incrocio non c'era niente da dire non c'era niente da dire io ho detto io sto in ginocchio tutto il video perché fabbri un'immondizia fabbri un'immondizia fabbri uno schifo uno schifo fabbri uno schifo uno schifo veramente ma oggi oggi abbiamo subito un altro gol dell'ex perché gli ex fanno i gol soltanto a noi daniel maldini con inter e juve il campo non lo vede con lo spezia ma deve giocare contro il minan vero cotti con inter e juve che hanno giocato con lo spezia con napoli daniel maldini il campo non lo vede con me deve giocare per forza comunque ha fatto un bellissimo gol aperto in chiusa parelli ma tralasciando questo abbiamo rischiato troppo nel primo tempo abbiamo concesso due occasioni spaventose allo spezia che se è lukaku se è un altro attaccante lì si fa il gol addio c'era se c'è un attaccante europe una top attaccante come benzema e non zola addio voglio cioè non puoi fare un uscita scriteriata ritata che poi ha giocato anche discretamente stasera e concedere quella palla di gol di zola davanti alla porta che non l'ha messa dentro poi ce ne siamo mangiati una caterba il bel gol di te vernandez abbiamo abbiamo veramente stradominato in alcuni tratti ma andiamo troppo a sprazzi troppo a sprazzi troppo cioè troppo emotivi e così a maggio non ci si arriva lotteremo per quella seconda stella fino alla fine fino all'ultima giornata fino all'ultima giornata per difendere quello che è il nostro per difendere lo scudetto però se l'hai arbitra così ti passa la voglia di giocare basta fabbri basta fabbri io vi chiedo scusa se non faccio non faccio il video con la maglia di mina ma sto ancora con la divisa della mia società fuori spesa d'italia fuori spesa d'acciato che oggi purtroppo abbiamo avuto un'altra brutta sconfitta quindi sono appena tornato sono tornato a casa molto tardi in tempo per la partita sono stanco quando vado in trasferta soprattutto molto lontano forza ragazzi non molliamo ma sono veramente stanco poi vedi quell'immondizia di fabbri e ti passa la voglia di giocare a pallone poi ti lamenti perché nelle categorie minori alcuni arbitraggi è meglio che non ne parliamo perché se fabbri è quello schifo è meglio che è meglio che rimango in ginocchio tutta la vita e non giochiamo più a pallone perché è veramente un arbitraggio a cazzo che ribadisco non è stato l'ammunizione sul gol di Giroud ma l'ammunizione date a cazzo di cane nel mucchio ne prendo due a cazzo ne prendo uno a cazzo e ammonisco quello e quello la vergogna più totale che non ci aveva capito un cazzo in quella lista e là la vergogna non è l'ammunizione sulla rovesciata è l'ammunizione nella lista perché Giroud ci è capitato come chi cazzo non c'entra ci prende l'ammunizione e io contro la Cremonesa la prossima non c'ho il Giroud il Milan sempre è più forte quel merdoso di fabbri sempre è più forte mi deve cacciare l'altra volta le hao per far vincere il Napoli ma mi hanno cacciato Giroud per farmi perdere con la Cremonesa e il Napoli scappa allora ditelo che volete farmi perdere il campionato perché fabbri lo fa apposta lo fa apposta a cacciarmi il meglio quello più in forma l'altra volta le hao Mojirou che è il prossimo Ibraivovic quando rientra no? eh? ogni volta ci dobbiamo disgustare perché io mi cominci a pensare male perché la prossima volta c'è Ibraivovic c'è Fabri me l'ammunisce mi somma il derby eh? addio! è così devo pensare devo pensare male devo pensare male io resto in giro anche sotto il video cioè io devo pensare male devo pensare male scusate se metto la chianella così è più comodo ve lo faccio in diretta mi metto mi metto più comodo eh così soffro di meno vedi ma così con la chianella sotto si ragazzi cioè Fabri lo fa apposta Fabri lo fa apposta prima le hao si è inventato l'espulsione Mojirou ha munito il cazzo in una rissa e il prossimo chi è? zio quando rientra? eh? chi è il prossimo? merda chi è il prossimo? chi è il prossimo che mi devi cacciare? eh? così quell'altro indegno di Valeri dobbiamo continuare a giocare o non dobbiamo giocare più? eh? dobbiamo continuare a giocare i campioni in Italia o non dobbiamo giocare più? perché oggi è stato fatto un altro schifo 5 5 minuti per vedere se il gol era regolare quando si vedeva ad occhio nudo un fallo di un dato a Tonali che era un rigore sacrosanto uno su Dechetelare complimenti Fabri uno scembio uno schifo uno schifo uno schifo uno schifo uno schifo veramente uno schifo veramente uno schifo io rimango in ginocchio non mi alzo finchè veramente in tutto questo video finchè Fabri non gli tolgono la divisa perché quello l'altra volta mi ha cacciato il Leao me l'ha fatto squalificare per la partita con Nao mo mi ha cacciato Giruga il più in forma di tutti la prossima volta a chi tocca a chi tocca la prossima volta walks nest come si dice in inglese chi è il prossimo chi è il prossimo vittima di Fabri di Valeri di quella monnezza di Mariani o di altri e che io comincio a pensare male comincio a pensare male perché Giruga il più in forma che ho e guarda cazzo sempre Fabri mi fa sto schifo sempre Fabri ci cambia perché riparisco e chiudo non è l'ammunizione sul gol perché quando purtroppo togli la maglia viene ammonito ma essere ammonito a cazzo in una rissa in un mucchio di persone prendo due a cazzo e li ammonisco perché non ci ho capito un cazzo poi io non ho vinto non ho ben capito chi chi abbia fatto chi perché era un'ammucchiata però chiappa quello e quello come fanno spesso gli abiti quando scoppia un parapiglia prendi i primi due quelli che mi capita e guarda caso ci è capitato Girù guarda caso ci è capitato Girù complimenti vivissimi complimenti vivissimi per il resto chiudo questo video dicendo basta Fabri basta Fabri perché ti passa la voglia ti passa la voglia ti passa la voglia ti passa la voglia ciao a tutti ciao